La General Motors lascerà entro l'anno il mercato indiano e venderà le sue attività in Sudafrica. Si tratta dell'ultimo passo di una strategia di posizionamento su mercati più redditizi e dinamici. Il colosso di Detroit pagherà 500 milioni di dollari nel secondo trimestre per le operazioni di ristrutturazione in India, Africa e Singapore. D'altro canto cancellerà buona parte del miliardo di dollari di investimenti previsti per la costruzione di una linea di vetture low cost in India.